10 stelle al merito del lavoro, 10 premi a dipendenti di aziende della provincia di Pesaro Urbino particolarmente distintisi per laboriosità, condotta e attenzione alla sicurezza del lavoro. Maestri del lavoro neodecorati che hanno più di 50 anni di età e più di 25 anni di attività continuativa e sono stati premiati oggi nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro Urbino con il conferimento delle stelle approvate dal Presidente della Repubblica Mattarella e consegnate dalla Federazione Maestri del Lavoro rappresentata nell'occasione dal Console Provinciale Luciana Nataloni. Dopo le due cerimonie di maggio 2020 e maggio 2021 annullate per le restrizioni da pandemia la cerimonia è tornata nell'inusuale collocazione di dicembre con 5 insigniti provinciali per il 2020 e 5 per il 2021. Tre dei dieci premiati con la stella sono dipendenti dell'IMAB Group SPA ovvero Crescentino Sabatini, Paolo Stagnozzi e Giancarlo Mei. Premiati con loro anche Andrea Fabiani della Siprem, Marco Arzeni di Confcommercio, Stefano Ballarini di St. Andrews SPA, Maria Gambarara dell'ufficio patronato CGL, Maurizio Benedetti di DMM, Antonella Terenzi di Tecnobank e Loredana Menconi della CNA di Pesaro. Una soddisfazione per il premio ricevuto che chiaramente è un premio individuale ma va a tutta la struttura perché nel corso di questi 40 anni e passa di lavoro ho condiviso tante cose con dei colleghi eccezionali quindi gran parte del lavoro fatto e delle soddisfazioni ricevute sono merito di tutti. Per il lavoro che abbiamo prodotto in tutto questo periodo è grande, è un riconoscimento emozionante per noi perché le paghe sono state scasse, almeno ci hanno riconosciuto questo grande risultato per quello che abbiamo fatto. Quanta vita è passata dietro al lavoro, a quante ore, quante notti, quante cose ho avuto a livello di emozioni e di soddisfazioni ma quante cose ho lasciato, la crescita dei bambini, di mio figlio e una vita l'anziana mia mamma lasciata da sola perché mi diceva sempre, ma perché devi sempre lavorare e io dicevo mamma perché devo lavorare, ho cose da fare, ho tanto, ma torna con me. Ecco, io ieri sera stavo ripensando a questo e dedico veramente questa stella a loro perché sono loro che l'hanno meritata prima di me rinunciando alla mia presenza e io alla loro. È stata una lunga vita di lavoro dedicata soprattutto agli affetti che ho un po' tralasciato e dimenticato. Premiate con due targhe altrettante aziende, la Benelli Armi e la St. Andrews SPA per la capacità di riconoscere meriti ai propri dipendenti. La cerimonia si è tenuta nelle prefetture provinciali in via del tutto eccezionale dopo che abitualmente si organizzava una grande cerimonia regionale alla mole vanvitelliana di Ancona. Si sono distinti per laboriosità, per izia, per inventiva, per innovazione ed anche sulla sicurezza del lavoro oltre che per la buona condotta. È una cerimonia molto significativa dall'alto profilo civile e morale.